salve da simone voi direte perché sono così perché oggi ho deciso di togliermi la maschera delle imitazioni voglio essere me stesso sì mi metto a nudo basti imitazioni e ragazzi sono vasco e mi raccomando e diamo botta perché vedrete che prima o poi ne usciremo e poi e poi e poi e poi e poi e poi ci troveremo come sta a bere il whisky a roxy bar e poi poi vediamo cosa dice signori sono in fioccheggio e lui non lui certo è lui edizione particolare quest'oggi distrisce la notizia badamin badamin è normale bene un collegamento ma che collegamento ma cosa dico rocco si frega disperato sì non può lavorare visto che in questo momento non ci possono essere sembramenti non può fare a mucchiate bene ma vedo che c'è anche chi c'è luca laurina sono la ma è me sta facendo fa 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 40 ea ecco scusate devo interrompere sono bruno vespa edizione particolare questa sera di porta a porta sentiamo cosa dice uno che di economia se l'intende romano cosa volete che vi dica teniamo duro perché dopo sarà tutto buono cioè usciremo dal tunnel e credetemi vedrete la luce ci le bollette che non avete pagato finora buongiorno